Buongiorno e benvenuti alla segna stampa di oggi, giovedì 11 gennaio, vediamo quali sono le cose fondamentali che sono scritte sui giornali. Siamo in piena campagna elettorale, quindi ci sono le interviste ai grandi leader politici e comunque tutti quanti retroscena che riguardano la politica. Insomma, la cosa che sta emergendo dai giornali è che c'è un Movimento 5 Stelle che sta diventando sempre più malleabile, mettiamola così, sempre meno il partito che dice entro nel Parlamento, lo apro come una scatoletta di tonno. C'è un centrodestra che finge di essere unito ma non lo è, ogni giorno ce n'è una sul centrodestra e c'è il centrosinistra che è diventato unito soltanto per un fatto, perché le sue ale più estreme, quelle antirenziane, sono semplicemente uscite, hanno già fatto la scissione, si candideranno in liberi e uguali o libere e uguali e quindi insomma le divisioni sono state già fatte. D'altronde, con il sistema proporzionale con il quale andremo a votare, ogni partito ha la sua casellina da occupare. Perché dico tutto questo? Perché faccio questa premessa? Daniela, buongiorno dalla Svezia addirittura. Perché dico questo? Semplicemente perché basta vedere ogni giorno quando i leader dei partiti, come Salvini oggi, ma anche Berlusconi nei giorni precedenti, con un suo modo di fare, magari più felpato, dicono l'esatto e il contrario di quello che si dovrebbe dire in coalizione. Oggi mi sembra che Salvini abbia fatto un'intervista al Corriere della Sera e dica che rispetto a Berlusconi, per esempio, oltre che sui vaccini, su cui tutti i giornali titolano, anche non è d'accordo per esempio sulla limitazione del contante. Lui lo vorrebbe libero per tutti, Berlusconi al 5.000 euro e Berlusconi ha una posizione diversa rispetto a Renzi sulla Fornero, ma anche sul Jobs Act, come mi sembra di aver capito ieri, avendolo intervistato a 105 Matrix. All'interno degli stessi partiti ci sono delle confusioni, il caso Maroni lo è tipico, oggi è intervistato da Cerasa sul Foglio, ma anche da Italia Oggi, e Maroni si dice molto seccato dal modo in cui Salvini lo ha trattato, ma il vero motivo per il quale Maroni si dimette, che dice di essere motivi personali, ha alimentato dei pettegolezzi sul fatto che lui si dimette dalla regione Lombardia per poter diventare ministro del governo vincente del centro-destra, ipotetico. Lui dice che ha già fatto tante volte il ministro degli interni, il ministro del lavoro, ha fatto tantissimi mestieri già da ministro, figuratevi un po' voi, dice Maroni, se voglio continuare a farlo. Ma il punto fondamentale non è tanto quello che vuole fare Maroni, ma è l'idea che all'interno addirittura della Lega ci sia una possibile divisione tra i pro Berlusconi, Maroni, e quelli che invece vogliono avere un'autonomia diversa rispetto a Berlusconi, che sono i salvi miani. Cos'altro c'è sui giornali? Insomma, sulla politica direi queste sono le cose fondamentali. Ci sono i commenti di Calabresi e Alesina, Repubblica e Corriere della Sera, che hanno tutti questo sapore. Vedete, i giornalisti e anche i professori, i professori peggio dei giornalisti, hanno questa rietta, come per dire ai politici, smettetela, siete tutti dei celtroni. Calabresi mette in fila tutte le promesse di tutti i partiti e dice, queste sono le promesse dello stracavolo, non sono tutte realizzabili. Addirittura quella di Di Maio che dice che con un atto solo vuole cancellare 400 leggi. In quel caso, povero Di Maio, si tratta di una delle poche promesse elettorali che magari non sono fattibili, ma hanno maggior deficit. Anche questa non va bene per Calabresi, non va bene nulla. L'idea di fondo, adesso cercate di capirmi bene, è leggendo i fondi dei giornali, gli editorialisti, io stesso, Sipar Valicet, tutti abbiamo questa idea che ci si debba candidare tutti con quest'aria alla Monti. Ora vi facciamo un mazzo così, adesso vi riempiamo di tasse, adesso lacrime e sangue. Insomma, i nostri giornalisti non so dove l'hanno vista questa roba qua. E soprattutto i giornalisti e i nostri giornali che hanno quest'aria così seriosa nei confronti dei politici e pretendono così tanto dei nostri politici che siano seri in campagna elettorale, tipico atteggiamento dei politici in campagna elettorale è sempre quello di dire minchiate, ecco, se i giornalisti fossero così sussegiosi farebbero anche dei giornali seri come loro pretendono della politica, non farebbero dei giornali scandalistici, parziali, pieni di materia che serve a loro per vendere. Insomma, io trovo che ovviamente non posso fare, non sono il politico, faccio il giornalista, non sono qua a difendere né Di Maio, né Berlusconi, né Renzi che ne spaiano una dietro l'altra, per carità, perché io per primo lo dico, ma la cosa che trovo incredibile è che stiamo creando un clima, noi opinion maker, per il quale i politici sono veramente tutti quanti dei disastri. E quindi c'è quest'area montiana nell'atteggiamento che c'hanno tutti quanti i giornali, dovresti fare questo. Io per primo lo faccio, quando sento che Berlusconi dice che vuole abolire Jobs Act, mi viene il sangue al cervello, perché dico, ma insomma, Berlusconi, ma tu non eri quello che è caduto sull'articolo 18 al circo massimo, tu non eri quello che c'era ministri Sacconi e ha fatto la riforma Biaggi, adesso ci viene a spiegare che non va bene la liberalizzazione del mercato del lavoro. Si possono togliere certe strutture, ma in qualsiasi legge c'è una struttura che si può togliere, ma non si dà come bandiera della campagna elettorale, come sembra dare Berlusconi il cambiamento del Jobs Act. Molto interessante invece l'acamusso, che fino a prova contraria del segretario della CGL, che è uno di quei sindacati che si occupano appunto di voler abolire Jobs Act come Berlusconi e come Salvini, e quindi già capite tutto quanto, però siccome la CGL è un'organizzazione seria, cosa fa la CGL? Oggi col suo segretario dice no alla guerra sulle candidature su Gori e Zingaretti, cioè il segretario di un sindacato che dovrebbe rappresentare i lavoratori, di che cosa si occupa? Delle candidature della politica sinistra. Beh, insomma, francamente, allora vale tutto, non voglio fare il fenomeno, ma scusatemi, mi dovete dire com'è possibile che il sindacato si occupi delle candidature del PD. E' uno di quei dubbi che ancora non ho risolto. Vabbè, sulla questione di De Benedetti oggi ne parlano tutti quanti i giornali, Berlusconi ieri a Radio 105 ha detto che De Benedetti è stato beccato nelle mani della marmellata il giorno in cui telefona al suo broker di borsa per cui dice comprate le azioni delle Popolari perché mi ha detto Renzi che cambieranno le leggi sulle Popolari. L'ho già detto ieri, oggi lo scrive il giornale Sallusti, ma non so tutto il giornale, insomma, se ne fosse capitato a qualcun altro io non so che cosa sarebbe avvenuto di questa frase intercettata e registrata di De Benedetti. L'avevo scritto a questo prezzo nel 2015, da lì non è cambiato nulla, così come oggi i giornali tutti quanti con i guanti bianchi nel trattare De Benedetti che dice al suo broker compra delle azioni che so che aumenteranno di prezzo. Io dico, se voi foste un commerciante, un commerciante che mette un cartello sbagliato nella vostra vetrina e arriva un vigile urbano che vi fa la multa di 5.000 euro perché avete violato una legge, questo è il paese per cui se metti un cartello sbagliato in una vetrina ti fanno 5.000 euro di multa, se paghi in ritardo le tasse ti mettono interessi stellari, se usi il telefonino in macchina ti tolgono i punti, se passi col rosso ti fanno 100 euro, se vai 3 chilometri in più rispetto ai 70 che sono previsti dalla statale ti tolgono i punti dalla patente, ma che se tu dici al tuo broker comprami 5 milioni di euro di azioni perché me l'ha detto Renzi che cambierà la legge, non c'è previsto nulla, neanche la sanzione dei giornali che facciano il ditino beh forse De Benedetti non è che l'hai fatta, ma io la trovo una cosa stupenda. Va bene, l'altra cosa che mi interessava oggi è Spelacchio, perché Spelacchio è questo albero sbagliato, fatto male questa beta e pagato 37.000 euro al centro di Piazza Venezia che è il simbolo della incapacità di governare Roma da parte della Raggi, è tipico dell'incapacità di questi arroganti che pensano di governare a Roma e spiegare a tutti gli altri come funziona il mondo, sembrano giornalisti portati al Campidoglio. Ma il punto è un altro, qua mi viene di difendere la Raggi, non, ho appena detto che è un incapace, ma perché se di Spelacchio si deve occupare l'ANAC, Cantone, su una denuncia di quei fenomeni del Kodakons, che sono bravi solo a fare denunce e poi dopo a vendere i loro giornaletti, beh se dobbiamo investire il Kodakons, cioè dobbiamo investire l'ANAC, Cantone, sulla questione di Spelacchio, vuol dire che secondo loro, secondo questi geni della Kodakons, il problema della corruzione in Italia è che la Raggi ha preso un abete sbagliato dal Trentino, va bene? Questo è il problema? L'ANAC si deve occupare dell'abete, ma porca puttana, diciamo che questo è un paese in cui c'è la corruzione, esagerandola soltanto per sputtanarci all'estero e oggi il problema del Kodakons è denunciare la Raggi sull'abete che è semplicemente incapace, sono semplicemente non in grado di gestire una città, non riescono a gestire un abete come non riescono a gestire i rifiuti, ma pensare che dietro a questo ci sia un'attività di corruzione per cui ci siano dei funzionari che debbano occuparsi di questo, dà l'idea di questa Italia burocratica fatta di norme, di leggi, di Kodakons, di piccoli ricattini per cui in questo paese non si può combinare nulla, va bene? Sapete qual è l'unico modo per punire, si fa per dire, la Raggi e la sua gestione per Spelacchio? Sapete qual è? Oppure, per la cosa ben più grave dei rifiuti di Roma, non votarli, non fare i fenomeni con Cantone che ha ben altre cose su cui indagare, penso, in questo paese burocratico per cui bisogna avere un ok dall'ANAC anche se mi taglio le unghie, vabbè, l'avete capito, questa sera 105 Matrix, ci sarà in diretta con noi Matteo Renzi, ex Presidente del Consiglio, ieri abbiamo fatto Berlusconi, oggi facciamo Renzi, domani faremo un rappresentante del Movimento 5 Stelle, la par condicio è obbligatoria, condividete questa zuppa se vi è piaciuta e ricordatevi che il sito nicolaporro.it c'è sempre notizie e informazioni diverse rispetto a quelle che postiamo su Facebook, ciao!